Il primo gol della stagione, un lampo di Palladini, vale i primi tre punti per i biancazzurri. Pescara e Venezia si sono affrontate a viso aperto per 90 minuti. Alla fine l'ha spuntata la squadra più cinica e rodata. Al fischio dell'arbitro Dattilo di Locri, il Pescara parte a testa bassa, deciso a riscattare la debacle di Cagliari. Al nono minuto Cecchini scatta in contropiede ed impegna Soviero che respinge distinto. Passa solo un minuto e Palladini, imbeccato da un perfetto lancio di Russo, azzecca la parabola giusta e mette a segno il gol partita. Sugli spalti si accende l'entusiasmo del pubblico, ma alla prima sortita degli ospiti il direttore di gara concede il penalty per un dubbio mani in area di Antonaccio. Batte Islas, ma Santarelli le spinge, una prodezza che segnerà l'andamento dell'incontro. Fino al termine della prima frazione di gioco, il Venezia mantiene una sterile supremazia di gioco, ma le idee in campo appaiono piuttosto confuse. In avvio di ripresa il copione non cambia. Al quindicesimo minuto Bellet sostituisce Giampaolo, apparso in buono stato di forma e pronto a sacrificarsi per la squadra. Il Venezia continua a premere, ma la supremazia dell'undici di Franceschetti si risolve solo in sporadici episodi generati da disattenzioni della retroguardia bianca-azzurra. Al ventitresimo Palladini respinge sulla linea di porta un'incornata da distanza ravvicinata di Mazzeo. Al trentasesimo il Pescara a divorare l'occasione per chiudere i conti. Bellet si libera sulla fascia e serve al centro il neo entrato Calaiocche, solo davanti a Soviero cicca clamorosamente il pallone. L'ultimo brivido è lo scadere dei minuti di recupero, quando Santarelli compie un miracolo su Fantini e regala la vittoria ai bianca-azzurri. Per il team di Iaconi si tratta di tre punti importantissimi, dopo il tracollo di Cagliari all'esordio. In campo si è visto un Pescara determinato e concreto, sorretto da un pubblico generosissimo, che non ha smesso di incitare i propri beniamini per tutti i 90 minuti. Certo che Cecchini lì davanti è apparso davvero solo, sovrastato dai difensori avversari negli ultimi lanci lunghi che il centrocampo gli forniva. Calaiocche potrebbe essere la spalla ideale per dare più peso all'attacco bianca-azzurro. Per il resto, Palladini e Santarelli a parte, e da sottolineare la prestazione di Stella, generoso e preciso sulla fascia destra, è stata una spina costante nel fianco del Venezia.